Nonostante il caldo torrido e la siccità, quest'estate si è dimostrata meno sofferta rispetto allo scorso anno per quanto riguarda la fornitura del servizio idrico, segno che gli interventi messi in atto stanno producendo i risultati sperati. Lo hanno precisato in una conferenza stampa ai vertici della Sasi. Sono stati infatti poche le sospensioni e pochi anche i lavori di riparazione per rotture improvvise che tanti disagi inevitabilmente creano, ha spiegato il presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe. Fino adesso siamo andati bene, ieri o l'altro ieri abbiamo accesa l'ultima pompa che va in integrazione alla nostra sorgente più importante che è quella del verde e quindi qualche problemino potrà accadere tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Comunque con tutti i mezzi e gli investimenti che abbiamo fatto su questa misura è bene ricordare che con fondi propri negli ultimi 4-5 anni abbiamo investito 23 milioni di euro. La situazione non è finita, anzi ci troviamo solo all'inizio. Se vi ricordate io dicevo che per risolvere questo problema, non lo dicevo a caso, lo dicevo nel contratto che avevamo firmato insieme alla regione Abruzzo, che per risolvere questo problema che occorrevano 250 milioni. Ci stiamo avvicinando. Il presidente della Sasi Basterebbe si dice soddisfatto. Si pensi che il 56% degli utenti non è stato coinvolto dalla mancanza d'acqua. Va detto, aggiunge, che senza la nevicata di fine marzo difficilmente avremmo avuto la stessa estate. Si toglie qualche sassolino dalle scarpe rispetto alle accuse rivolte alla Sasi dal comitato firme per una gestione migliore. Io posso dire che questi investimenti sono veritieri e possono essere controllati da chiunque. Il presidente ha poi lasciato al direttore dell'area tecnica Pio Di Polito il compito di precisare i numeri e i dati relativi a finanziamenti e progetti. I progetti hanno un inizio nel 2023, bisogna appaltarli, nel marzo del 2026 bisogna chiudere. Quindi dobbiamo prevedere tutto ciò che oggi è preveribile per non arrivare a delle sorprese durante gli anni che ci creano poi problemi di ritardi.